Matteo Principi, oggi Corinaldo lancia Corinaldo GIF, di cosa si tratta? Esatto, una giornata importante, Corinaldo propone un pacchetto turistico, un gift, che è il frutto di una collaborazione importante con le nostre strutture ricettive presenti nel nostro comune, pensi ai vari bed and breakfast, ristoranti, alberghi e con un partner, un partner importante, che è appunto tutto il gruppo Maraviglia, che insieme all'amministrazione ha iniziato appunto questa collaborazione nel promuovere questi pacchetti turistici che saranno veicolati tramite le filiali del nostro istituto di credito, la banca di credito cooperativo di Corinaldo, veicolati anche grazie all'ufficio turistico e anche ad alcune agenzie turistiche presenti nel comune di Seniveglia. Quindi è l'inizio di un percorso importante che dimostra la volontà, l'amministrazione, gli operatori del settore, gli esperti come appunto questo tour operator che è appunto Maraviglia nel promuovere il nostro territorio. Quindi una rete, una rete qui locale che dimostra appunto la sensibilità e anche appunto l'importanza nel percorrere questa strada del settore turistico, quindi delle politiche turistiche intese come sviluppo di un territorio sia economico che anche occupazionale. Grazie mille.